Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di un esperimento potentissimo che ho fatto settimane fa in realtà e infatti adesso non sono più così impizzato sarebbe venuto molto meglio se l'avessi girato direttamente mentre lo facevo però come spesso accade non ho un briciolo di tempo questo semestre devo dare 7 esami e la vita è una merda dicevamo, un bel po' di tempo fa ho scoperto questo file system sperimentale chiamato B3FS che non ho mai avuto il tempo di provare voi state vedendo la mia mano mentre gesticolo, non è vero? vabbè, mi sono scritto un paio di funzionalità le più emergenti e le più interessanti qui perché ho finito la memoria alcune di queste sono la possibilità di creare snapshot creare sottovolumi, qui comunque possiamo creare una struttura dove abbiamo più root sullo stesso file system la compressione a livello di file system, di tutti i file ad esempio creo un file, magari è ben comprimibile e quindi il file system lo comprime senza creare un archivio, cioè lo comprime e io non mi accorgo di niente è una cosa trasparente all'utente, occupa meno spazio non so cosa significhi fare un massaggio alla scrivania poi abbiamo il supporto integrato a ride 1.0.5 principalmente ottimizzazioni per gli SSD se presenti SSD e backup incrementali efficienti con la funzionalità di snapshot copy on write e il trasferimento degli snapshot su altri host ad esempio là ho un synology come sapete quindi potrei fare gli snapshot e mandare gli snapshot incrementalmente al synology devo ancora provarlo e poi abbiamo la deduplicazione dei dati in cui sostanzialmente se creo due file identici non occupano il doppio dello spazio questo significa e il checksum sui dati e sui metadati e l'ultima feature molto interessante che mi ha permesso questo esperimento pazzesco è la conversione in place da XT4 a B3FS perché dovete sapere che a me non piace reinstallare continuamente il file system, reinstallare le distro e tutto quanto non sono più un distro hopper avevo qui mangiaro, installato una volta e poi dimenticato questo è quello che uso sempre per lo studio me lo porto avanti e indietro anche in università questo semestre non tanto come avete immaginato però vabbè qui sopra chiaramente è un'installazione classica con XT4 non ero a casa mia quando mi è preso il prillo di fare questa cosa e quindi non avevo neanche una chiavetta per fare, non so, qualsiasi boot di una live, di una distro, di qualsiasi cosa mi sono messo in testa che volevo convertire questa installazione, il file system, da XT4 a B3FS la procedura standard sarebbe che prendi una chiavetta di Arch Linux in questo caso con quella della distro che hai installato possibilmente ma non è importante fai il boot da chiavetta lanci un B3FS convert sulla partizione su cui hai l'installazione e quando non fallisce, non manda tutto a puttane ti trovi al riavvio un file system B3FS ora, non è così semplice, ci sono comunque da fare alcuni aggiustamenti ad esempio dovrai aggiornare il etcFS tab per dire al sistema che è cambiato lo UUID della partizione di root e il file system è di un altro tipo e alcune altre opzioni per il montaggio e quant'altro però la base è questa è incredibile come possa convertire da XT4 a B3FS in place senza dover fare necessariamente un trasferimento dati e rininstallare e ricopiare i dati indietro ok, problema numero uno come fai a fare il boot da chiavetta? quando non hai una chiavetta? piccola googolata e scopro che è possibile su Grab specificare un ISO addirittura che risiede su una partizione per fare il boot da lì quindi sono andato qui sopra avevo una partizione di swap l'ho eliminata a posto di quella ho creato una partizione XT4 e questo si poteva fare anche proprio da sistema operativo installato te lo lascia fare su questa partizione XT4 ho copiato un CD di Arch Linux un live CD e poi sono andato su Grab ho creato una custom entry per fare il boot da questo live CD questa immagine ISO su quella partizione riavvio dopo aver fatto update Grab e tac riesco a bootare effettivamente su questa partizione e questo è importantissimo perché è come se avessi fatto il boot su una chiavetta e la partizione di root su cui vige la mia installazione non è montata la posso lavorare senza problemi non dice non posso ridimensionare il file system perché è montato ok questo è il passaggio chiave da qui ho ridimensionato il file system ho tolto qualche cosa sarà stato un giga dal file system di root per fare spazio e creare un'altra partizione sempre XT4 chiamata indovinate un po' boot perché ho voluto spostare dopo la cartella slash boot sul file system di root all'interno di una partizione separata boot ho detto a FSTab che la partizione di boot sarebbe stata su una partizione separata invece che una cartella sulla partizione di root quindi l'idea è stata quella di scorporare la partizione di boot dire a grab che la partizione di boot era separata e poi convertire il file system di root in modo che se la conversione del root fallisce io ho comunque grab e una partizione di boot in grado di boot ho un installer di archlinux su un'altra partizione da cui posso rilanciare l'installazione e riparto da capo fresco fresco ok a quel punto solo a quel punto dopo aver controllato che tutto funzionasse ho lanciato B3FS convert l'operazione non ci ha messo tantissimo tutto sommato come vi dicevo ho dovuto aggiornare la FSTab ho dovuto ricreare l'initram disk per supportare anche il file system B3FS e sostanzialmente a riavvio respiro di sollievo perché è partito quindi il primo passo è fatto ho un file system B3FS però a questo punto volevo provare la prima cosa gli snapshot cioè la possibilità se smaroni qualcosa e non parte più il sistema di fare il boot addirittura da un'istanza precedente perché questi snapshot sono bootabili cioè possiamo fare l'avvio a uno stato precedente come se fosse stato congelato e poi scongelato fantastico per fare ciò possiamo usare due alternative una si chiama snapper e l'altra si chiama timeshift ed è un po' più semplice nella mia esperienza mi sono trovato alla lunga poi meglio però per fare ciò bisogna che le varie cartelle significative che abbiamo sulla radice le portiamo in dei sottovolumi cioè invece di avere la root direttamente sulla radice del file system dobbiamo creare una cosa chiamata root oppure chiamata chiocciola dove andiamo a copiare tutti i file cioè alla fine diventa una cosa di questo tipo in cui hai per esempio il sottovolume della root con la chiocciola ad esempio hai il sottovolume per le home chiamato chiocciola home e così via dicendo per tutte le cartelle per cui vuoi creare un sottovolume separato alla fine poi questi sottovolumi vengono montati al loro posto però sul file system risultano cartelle separate in questo caso sullo stesso livello che poi verranno montate con le regole di fstab nel posto giusto in cui appartengono ora possiamo dire a timeshift di creare degli snapshot b3fs per uno specifico sottovolume ad esempio chiocciola root chiocciola home e via dicendo e la cosa più interessante è che possiamo installare b3fs grab o grab b3fs non mi ricordo come si chiama che trova in automatico questi snapshot creati appunto da timeshift o snapper e li va ad aggiungere come record da poter buttare all'avvio con grab bellissimo bellissimo e timeshift ad esempio crea uno snapshot ogni ora ogni due giorni ogni giorno ogni settimana ogni mese ne conserva quanti gliene dite voi ed è tutto programmabile dal punto di vista del tempo se poi volete creare qualcosa di un po' più dinamico e frizzante tipo ogni volta che faccio l'upgrade del sistema visto che arch è una rolling release e si può rompere ad ogni upgrade puoi installare un programmino che mi sembra si chiami timeshift autosnap che praticamente fa uno snapshot b3fs ogni volta che facciamo un upgrade di sistema o un upgrade anche solo di un pacchetto fantastico perché così al di là della programmazione oraria degli snapshot se faccio un upgrade dopo il quale il sistema non fa più il boot dalla schermata di grab posso fare il boot dello snapshot precedente all'upgrade e poi ripristinare il sistema a questo snapshot precedente insomma questa è stata un'esperienza veramente formativa molto interessante ho imparato molto sui volumi sottovolumi la compressione e altre cose riguardo b3fs c'è ancora molto da imparare naturalmente sarebbe stato molto più semplice prendere formatare reinstallare tutto il sistema semplicemente direttamente con b3fs fra l'altro se vi interessa questa feature dei rollback ma non volete sbattervi così tanto potete anche installare open source che è una distribuzione che questa cosa la fa di default però insomma non sarebbe stato altrettanto divertente e formativo come lo è stato farlo manualmente spendiamo due parole sulla stabilità e sulle performance di questo file system ora non ci sono dubbi che a livello di performance b3fs non è allo stesso livello di ext4 che è anche molto più stabile e non ha questo overhead dovuto appunto dalle mille funzionalità interessantissime per giunta di b3fs ah fra l'altro b3fs supporta anche il ridimensionamento della partizione online cioè io adesso avendo fatto il boot su questa partizione posso comunque andare ad aprire gparted e ridimensionare allargando o restringendo questa partizione online senza doverlo fare da un live cd me lo fa fare è bellissimo è veramente bellissimo però tutte queste cose hanno un costo c'è un sacco di overhead per i metadati quindi a livello di occupazione di spazio su disco mangia più memoria rispetto a un file system più scarno come ext4 è più lento perché deve riorganizzare i metadati continuamente non è così stabile testato come lo è ext4 altra cosa sempre a livello di spazio su disco è che non è super accurato cioè quando andiamo qui ad esempio dice 95 96 giga liberi questi sono il minimo spazio disponibile che c'è sicuramente potrebbero anche essere di più però per il modo in cui viene trattato lo spazio di archiviazione con i metadati e tutto quanto subito i fs è estremamente difficile fare un calcolo preciso di quanto spazio libero effettivamente c'è sappiamo che ce ne sono almeno 95 potrebbero essere di più non potrebbero essere di meno ecco l'idea è questa insomma sono tante funzionalità molto interessanti futuristiche si pagano con occupazione di memoria e prestazioni un po' più scadenti del resto niente è gratis comunque se il computer lo usate per fare cose normalissime come navigare in internet scrivere documenti e programmare per esempio non ve ne accorgete io penso che l'impatto sulle performance si noti principalmente quando si vanno a montare video o fare cose molto IO bound cioè cose in cui il throughput del come si dice la banda del disco è molto importante dobbiamo continuamente leggere molti dati o scrivere molti dati per cose un po' più normali non è che ci sia tutta questa differenza enorme che ti fa dire oh mio dio fa schifo devo assolutamente rimettere xt4 quindi da quel lato mi trovo benissimo metterei B3FS sul fisso su cui monto i video assolutamente no proprio per questa ragione ma su questo l'ho fatto e su questo l'ho fatto questo lo teniamo per più avanti ho una una recensione che sto preparando per una distro vabbè non voglio fare spoiler comunque forse li ho già fatti degli spoiler fa niente entrambi comunque montano B3FS e qui ho detto tutto se qualcuno di voi ha già provato B3FS vuole raccontare la sua esperienza la sua storia oppure magari ho dimenticato qualcosa di importantissimo o anche cose interessanti che mi sto perdendo vi prego fatemelo sapere nei commenti perché questa è una novità anche per me e ci tengo a raccogliere tutto quello che posso dalla community perché c'è tanto tanto da imparare detto questo ci vediamo al prossimo video si notava che che era preparato